Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna e iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi vi propongo una motivazione leggera, semplice ma allo stesso tempo molto profonda, una profondità motivazionale che ci tocca molto da vicino. In particolare un'immagine mi ha particolarmente colpito e mi soffermerò su questa in particolare. La motivazione ci proviene da un insospettabile gourmet detective che forse pochi conoscono. È il protagonista di una serie di film giallorosa, si sarebbe detto un tempo, mi permetto di fare il cinefilo e direi che il prototipo di questo tipo di storie, questo sottogenere, è la serie degli anni 30 dell'Uomo ombra con William Powell e Myrna Loy, dove la trama gialla è accompagnata da una sottotrama o da un contesto rosa sentimentale. Questa è anche la tonalità fondamentale della serie di film di origine canadese gourmet detective che io ho scoperto così saltellando, facendo zapping sulla piattaforma di Sky Now. Mi sono incuriosito perché io personalmente non amo tantissimo il genere, diciamo così, del poliziesco all'italiana, nel senso non degli anni 70, non del genere degli anni 70, ma degli sceneggiati, delle miniserie contemporanee con il proliferare di commissari che insieme a preti, suore e medici costituiscono il pantheon del nostro immaginario un po' asfittico. Non amo molto il noir o pseudo noir contemporanei con commissari coinvolti e voi direte naturalmente ecco, te pareva, ma era solo un espediente per spiegare perché invece ho deciso di guardare questa serie di film. Ecco, il commissario è sempre coinvolto in un certo modo nel tessuto sociale, c'è sempre una morale, una morale sociologica, un'analisi sociologica in cui il commissario, che alla fine è sempre una figura iper rassicurante, ristabilisce certamente un ordine, questa è la funzione storica sia del giallo che del noir, la funzione catartica di entrambi i filoni, ma ho come la sensazione che nel poliziesco contemporaneo, soprattutto quello italiano, con i commissari proliferanti, vi sia la pretesa di leggere la realtà e inevitabilmente questa pretesa produce degli effetti, tranne rare eccezioni, non soltanto fatalmente, inutilmente rassicuranti, un po' paternalistici, ma allo stesso tempo banalizzanti, soprattutto quando abbiamo a che fare poi con l'immaginario trasmessoci dalla RAI, che negli ultimi trent'anni almeno ha notevolmente abbassato il suo livello. Basterebbe guardare una miniserie negli anni settanta, penso soprattutto, ne abbiamo già citata, per la musica, dove Anna, un capolavoro di costruzione narrativa e allo stesso tempo un grandissimo successo popolare, il più grande successo della televisione italiana, ancora oggi non è guagliato. E confrontarlo, questo tipo di produzioni, con una produzione media attuale per rendersi conto di questo, ma ho finito la mia inutile omelia sul degrado dei tempi e ritorno sul fatto che invece ho sempre amato e continuo ad amare il detective classico, colui che risolve i gialli classici, il modello Sherlock Holmes, il modello e Hercule Poirot, il modello Miss Marple, e ottimi epigoni, nella maggior parte dei casi inglesi, come Peter Lovesay o Paul Doherty, che a volte si firma come Paul Harding, che è autore di una serie bellissima di gialli medievali con protagonisti Un Monaco. Perché dico questo? Perché nel giallo classico, il giallo della stanza chiusa, il giallo del delitto perfetto, il giallo, come potremmo definirlo, il giallo geometrico, dove c'è una costruzione architettonicamente perfettamente geometrizzata e dove a tutti gli effetti vi è una pura astrazione, l'effetto è un'astrazione. Il detective in questo caso agisce, ho avuto modo anche di parlarne in altre occasioni riferendomi a Hercule Poirot, vi invito se siete curiosi a cercarlo, ho dedicato sia una motivazione quotidiana sia un video sull'Hercule Poirot come il detective olotropico, in quanto penso che accada proprio questo, la differenza fondamentale tra il poliziesco, fra virgolette, e il giallo classico consiste proprio in questo. Il poliziesco ha come oggetto la realtà, il giallo classico ha come oggetto una metafisica, dove anche il bene e il male sono universalizzati, dove il delitto e il crimine svela una natura umana che però è attemporale, astorica, è appunto metafisica, il detective non si immerge nella realtà diventandone parte, non vi è un simbolico immolarsi alla realtà, ma anzi vi è un continuo mantenimento del distacco, un perpetuarsi del distacco della distanza. Proprio dalla distanza assoluta con cui il detective classico osserva, analizza e risolve sta la sua assoluta alterità e la sua assoluta perfezione, sa che c'è una sola direzione, la direzione è quella del bene, questo bene viene interrotto, questa direzione viene spezzata da un evento malvagio che svela la natura malvagia che fa parte degli esseri umani, non delle cose, non della natura. Ed ecco che interviene, infatti se ci fate caso nella maggior parte dei casi questo detective metafisico è sempre uguale a se stesso. Hercule Poirot non cambia mai, Miss Marple non cambia mai e anzi sembra proprio che non esistano fuori dall'evento in cui vengono chiamati, dall'evento delituoso che sono chiamati a risolvere. E lo dice amaramente l'Hercule Poirot di Kenner Branagh, nel meraviglioso assassinio sull'Oriente Espress, ve lo ripropongo brevissimamente, quando parla della maledizione per lui del vedere le cose come devono essere e non come sono. Ed è proprio in questa frattura, in questa crepa nel muro della metafisica che riesce a spaccare il quieto splendore di ciò che è perfetto invadendolo con la malvagità umana, con il male umano. E questo è ciò che rende la vita del nostro detective, come dice Poirot, insopportabile. Il naso è in mezzo alla faccia, questo rende il più della vita insopportabile, però si rivela utile nel caso di un'indagine su un crimine. Ecco proprio il senso metafisico a cui accennavo. Sembra proprio che questo detective, classico come lo abbiamo chiamato, riesca a vedere il mondo da una prospettiva unica, la prospettiva di assoluta distanza, quasi quadridimensionale. Vedendo come è il mondo rispetto a come dovrebbe essere, arrivano facilmente a risolvere l'enigma, basta vedere l'errore, però restano condannati a vivere totalmente fuori dal mondo, a essere enti, entità che sono fuori dal mondo e vengono chiamate nel mondo soltanto quando servono. Sono quasi dei bodhisattva. Questa è la figura degli esseri umani illuminati nel buddismo che decidono però di ritornare nel mondo perché mossi da compassione vogliono aiutarlo. Sono riuscito a parlare per circa otto minuti senza minimamente far cenno a quello che è l'oggetto della nostra motivazione, che non c'entra assolutamente niente con quello che ho detto fin qui, ma mi sembrava interessante comunque condividere con voi il ragionamento che ho fatto in merito alla scelta di gourmet detective, che certamente non arriva a queste altezze, non le mie, quelle di Poirot e affini, ma che comunque resta un detective classico a tutti gli effetti. E le sue indagini avvengono anch'esse fuori dal mondo, infatti riguardano sempre delitti culinari, cioè che avvengono nell'ambiente della gastronomia. Quando avvengono questi casi la polizia di San Francisco, la città in cui si svolge questa serie di film, chiama come consulente il gourmet detective, cioè Henry Ross. La trama gialla inevitabilmente si tinge di rosa perché il nostro Henry Ross affianca inevitabilmente un affascinante detective di polizia, che più che un detective di polizia sembra uscita da una puntata di Baywatch. E non a caso lo dico perché è stata lanciata l'attrice che si chiama, se non erro, Burns, controllo un attimo, ecco sì esatto, Brooke Burns, che è stata lanciata proprio dalla serie Baywatch, è stata una delle tardo bagnine, io non ho visto quelle stagioni, quindi non la ricordo, ma posso rassicurare tutti i fan di Baywatch, è una delle poche attrici di Baywatch che non è stata preda di qualche esaurimento nervoso, non è diventata dipendente da psicofarmaci, alcolista o bulimica. E quindi un bel applauso per Brooke Burns. Oggi abbiamo un movimento rapsodico, ma finalmente arriviamo al punto della motivazione. Siamo nel primo film della serie, ancora i due non si conoscono e Henry Ross invita a pranzo la detective e sceglie un posto non certo di classe, sceglie invece un posto molto popolare, una sorta di rosticceria e lo sceglie per una ragione precisa, questa. Boccherai nella tua cucina la stessa passione e la stessa cura che quell'uomo metta nel preparare i suoi piatti. Avrai successo nella vita, non importa quanto sarà pieno il tuo cotone banca. Questo è il miglior consiglio che mi abbiano dato in tutta la mia vita. Beh intanto il consiglio, la motivazione della passione già in sé è molto bello e molto profondo e direi che colpisce anche di più proprio per il fatto che arriva inaspettato in una situazione, in un contesto che nulla ha a che fare con la crescita personale o con la motivazione. E quindi risalta come un naso in una faccia per dirla alla Poirot. Ma c'è una cosa in particolare che mi ha colpito vedendo questa scena ed è l'attenzione con cui il proprietario del locale, che sembra proprio essere anche l'unico cuoco del locale, di questo piccolo locale che ha da 50 anni, e possiamo immaginare che da 50 anni cucinerà, proporrà gli stessi menu e gli stessi piatti o alcuni specifici menu, alcuni specifici piatti. Quello che mi ha colpito è la concentrazione, l'attenzione che riserva quest'uomo alla preparazione di quello stesso piatto, alla cucina di un piatto che avrà cucinato centinaia, ma che centinaia, migliaia o decine di migliaia di volte. Non gli porterà questo piatto successo, non diventerà uno chef stellato e non è soltanto, anche se è importante, la questione della passione e quindi del vero successo che è un elemento importantissimo anche in questa situazione. Il nostro gourmet detective è un chef, un ex chef per meglio dire di successo, frequenta ambienti altolocati, mentre invece questo signore, questo titolare di locale, che comunque è suo locale, oltretutto è un signore di colore, quindi possiamo immaginare che da 50 anni ha messo in piedi quel locale, quanta fatica avrà fatto 50 anni prima a iniziare ad avviare la sua attività a causa del colore della sua pelle, benché San Francisco sia senza alcun dubbio una delle città più aperte e multiculturali negli Stati Uniti. E quindi certamente il vero successo è la creazione di qualcosa che è completamente tuo, che hai tirato su da zero e che hai portato al massimo livello che poteva raggiungere. Questo è il vero successo, non ho alcun dubbio in merito, non ho alcun dubbio del fatto che questa sia l'unità di misura del successo, non la quantità del conto in banca o della popolarità, ma la qualità della propria vita realizzata. Questo è senza dubbio il punto numero uno, che è quello esplicitato in questa scena, ma c'è il secondo punto che secondo me è ancora più importante, quell'attenzione a ogni piatto, quell'attenzione, quella concentrazione su ogni cosa che stai facendo, che sai che non ti porterà a nessun premio, che non ti porterà a nessuna soddisfazione dal punto di vista esteriore, nessun tipo di successo popolare, nessun tipo di giudizio critico che ti farà finire sui giornali, che non ti farà fare neanche più fatturato perché ormai la tua clientela è quella. Voglio dire, non ci sarebbe nulla di male se qualche piatto lo buttassi un po' via, se lo facessi un po' con la mano sinistra, dopo 50 anni se tirassi giornata per arrivare alla sera, per arrivare alla pensione, sarebbe più che comprensibile. E invece lui no. Ogni piatto, ogni piatto, con che attenzione? Grandissimo attore peraltro, una parte che dura tre secondi ma almeno resterà impressa in me per tutta la vita. Ricorderò questa scena, per questo ve l'ho proposta. Perché quando ci sono quei momenti in cui la routine diventa dominante e possono essere giorni, settimane, mesi in cui devi preparare, in cui devi allestire tutto, in cui stai preparando qualcosa di nuovo e devi fare attenzione a ogni particolare, dove non hai risultati nel breve periodo, dove devi semplicemente fare il tuo lavoro e continuare a fare il tuo lavoro quotidianamente, ogni giorno, costruendo attraverso quel lavoro così noioso a volte, o così monotono perlomeno, costruendo il tuo progetto. E sai che soltanto così potrai costruirlo. Vale per una nuova iniziativa, una nuova impresa, ma vale anche per un nuovo sport che si vuole imparare, per una nuova disciplina che si vuole apprendere, per un nuovo hobby, eccetera. E poi c'è l'altra parte anche. Cioè quando da tanto tempo fai una cosa e quando sei arrivato alla consapevolezza che quella cosa più di così non potrà essere, più di così non potrai diventare bravo, più di così non potrai avere successo, restando in quello specifico ambito che è apprezzato, che è valorizzato dalle persone, per esempio un locale che viene frequentato o una casa editrice che viene frequentata. Continuare a mantenere la stessa attenzione all'inizio, a metà, alla fine di ogni azione, di ogni lavoro che si fa e all'inizio dell'attività, a metà della tua attività e anche quando pensi che la tua attività sia compiuta. Anche in quel caso corri il rischio di sederti, corri il rischio di assuefarti alla routine e nel momento in cui ti assuefai alla routine la qualità del tuo lavoro peggiora, perché se non riesci a iniettare nuove idee, nuova passione, nuovo entusiasmo in quello che fai, a trovare la chiave che nessuno ti può dare, la chiave del senso, la chiave dell'entusiasmo. Non soltanto finirai con diventare prigioniero della routine, ma inevitabilmente renderai sempre meno qualificato ciò che fai e a lungo andare la qualità della tua vita ne risentirà. E sembrano proprio risuonare le parole del saggio taoista Lao Tzu, che dice che il vero saggio veglia all'inizio della sua opera, ma anche alla fine della sua opera, perché sa che soltanto vegneando sempre potrà ottenere e mantenere la saggezza. Dal saggio Lao Tzu dell'Antico Oriente al saggio proprietario del locale di San Francisco, la saggezza non ha limiti di tempo, di spazio, di età o di razza. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità? Ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani, per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Grazie a tutti!